Il covid comporta anche il fatto che ci siano patologie di serie B, ammalati di serie B perché si dà importanza assoluta al covid, come è giusto che sia, però poi vanno purtroppo a cadere in secondo piano patologie gravissime, importantissime. Penso alle patologie cardiovascolari, alle patologie oncologiche, alle patologie neurologiche. Pensate un po' su 18 milioni di prestazioni cardiologiche previste e saltate a causa del primo lockdown, c'era la previsione di recuperare almeno 3 milioni di queste prestazioni, ma sicuramente questa cifra salterà ancora una volta, non si riuscirà a recuperare. Pensate un po', si è registrato un 30% di calo di prime visite oncologiche perché la gente ha paura, perché non esistono in molte strutture reparti distanziati adeguatamente tra appunto reparti covid e reparti afferenti ad altre patologie. Gli screening ormai, gli screening di prevenzione di fatto non esistono più, sono rarissimi e questo crea dei danni enormi anche in termini di spesa sanitaria perché tu hai un tumore e non fai un'azione di screening e il tumore avanza e poi ti troverai il male gravemente avanzato. Il problema è che abbiamo avuto un governo incapace che non ha saputo prevedere che ci sarebbe stata una seconda ondata, anche l'avrà anche previsto, però non l'ha fatto in termini sanitari per assicurare quel sacrosanto diritto alla salute sancito dalla Costituzione che non esiste solo per il covid, ma esiste per i malati di cancro, per i malati di cuore, per i malati a livello cerebrale. Nulla di tutto questo, ma da un governo improvvisato cosa ci si poteva aspettare? Il nulla, la condanna a morte per tanti ammalati.